Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con il ciclismo, quattro anni di squalifica per uso di sostanze vietate, questa è la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping a carico del ciclista rituano Raimondas Rumsas Junior, danni residente a Lucca con la famiglia. La squalifica terminerà il 22 ottobre 2021 considerando anche il periodo di sospensione cautelare dall'attività sportiva ufficiale, il 23enne Rumsas era stato trovato positivo ad un ormone della crescita in un controllo fuori gara effettuato il 4 settembre scorso a Capannori. Per i motori le incertezze regolamentari relative alle nuove norme sull'installazione dei nuovi serbatori di sicurezza e problemi organizzativi hanno costretto la scuderia Balestrero di Lucca a rimandare il rally del Carnevale 37esima edizione che era in calendario il 24 e 25 febbraio. Ora si sta lavorando per trovare una data più favorevole che potrebbe essere il 10 e 11 marzo ma si stanno aprendo anche opportunità in periodi inusuali per la corsa versiliese. Siamo alla Lucchese, il derby con il Livorno ha lasciato strasci che è anche sul piano regolamentare. Il Lopez furioso anche a ragione di Lucchese Livorno è stato sanzionato dal giudice sportivo con la squalifica di due giornate che impedirà al tecnico rossonero di guidare la squadra domenica prossima a Monza e nella successiva gara interna con l'Arezzo. Beh, qualcuno ha scritto dopo il danno la beffa e forse non ha torto. In effetti la direzione di gara del signor Capone di Palermo è stata perlomeno discutibile e quel rigore concesso agli Amaranto quasi allo scadere del primo tempo non è proprio andato giù a nessuno, tanto meno a Lopez e tra l'altro un turno se l'è beccato anche a Rigoni che era in diffide che è stato ammonito. Intanto, sulla scia della bella prova fornita contro la capolista, il cinquantenne tecnico romano è già iniziato a preparare la trasserta di Monza. Al Brianteo dovremo vedere all'opera per la prima volta il tandem Fanucchi-Szechilazze che noi definiamo dei sogni. Il fantasista Lucchese, alle spalle del velocissimo Giorgiano, autorizza a sperare in grandi cose. Ancora da valutare le condizioni fisiche di Mario Merlonghi, uscito dopo pochi minuti per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro nel derby di lunedì sera. Ci vorrà una risonanza magnetica per saperne di più. In mediana scatta l'emergenza. Ed è proprio a centrocampo che il direttore sportivo Bedio sta cercando rinforze adeguate e di spessore. I nomi di Bellemo, della SPAL e di Pedersoli del Piacenza sono in primo piano, anche se lo stesso Bedio smentisce. Ma qualcuno arriverà sicuro. In tal senso la Lucchese potrebbe avere a breve un nuovo centrocampista, secondo quanto abbiamo raccolto anche da fonti ferraresi. Da Ferrara i rossoneri sarebbero vicini ad Alessandro Bellemo, il classe 95, nativo di Chioggia ed ex fan di proprietà della SPAL. Fisico statuario, un 84 per 82 kg, agisce da centrale della linea mediana e potrebbe rappresentare davvero il giusto rinforzo nel settore nevralgico del campo. Ancora una notizia di calcio legata al campionato di Serie C, si è giocato il recupero Piacenza-Siena con la Robur Siena che ha vinto per 2-1 sul campo del Piacenza. Siena che sale solitario al secondo posto a 43 punti, ha 7 punti di distacco dalla capolista Livorno, mentre il Piacenza rimane a 26. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha comunicato gli orari definitivi della Final 8 di Coppa Italia e in generale di tutte le partecipanti alle tre Coppe Italia che si giocheranno a Follonica dal 23 al 25 febbraio. Nei quarti di finale di Coppa Italia di A1, in programma venerdì 23 febbraio, il Forte dei Marmi affronterà il Trissino alle ore 17. A seguire alle 19 il Cgc Viareggio scenderà in pista contro il Breganze. Sabato 24 si giocheranno le semifinali ricordando che in quella delle ore 21 potrebbe esserci il derby tra Cgc Viareggio e Forte dei Marmi. Gilari Giamali del gruppo podistico Parco Alpiapuane ha confermato la propria forza, una straordinaria continuità di rendimento. Il forte atleta Magrebino si è infatti imposto nella gara svoltasi a Campi Bisenzio battendo in volata il connazionale Ishamo Midar. Da segnalare anche la buona prova di Fabrizio Rovai al trofeo Tiamo a Viareggio, oro tra i veterani, sempre per le Alpiapuane di Marcello Bernardini e bronzo di categoria per Lorenzo Checcacci. Sempre per l'atletica la seconda tappa del Grand Prix provinciale di Corsa Campestre riservata alle categorie giovanili che si è svolta a Pietrasanta. Grande successo per la seconda tappa del Grand Prix provinciale di Corsa Campestre 2018 all'impianto Falcone Borsellino di Pietrasanta. Bello il percorso interamente realizzato all'interno dell'impianto dalla locale società atletica Pietrasanta Versilia del presidente Filippo Viti. Tutti gli ingredienti per una bella giornata di sport, bella giornata e tantissime persone a seguire l'evento e le gare non hanno tradito le aspettative. Tutte le prove sono state combattute e lottate dal primo all'ultimo metro. Tre cadetti ha vinto Tommaso Giannini della Virtus Lucca, ottime le conferme degli atleti del Pietrasanta, Nicola Politi secondo Leonardo Landucci, Alessandro Politi, ben piazzato anche Andrea Rutili. Nella categoria cadette la vittoria è andata ad Anna Lucarotti ancora della Virtus Lucca, bella prova però delle cadette versiliesi, Rachele Romano al terzo posto, Valentina Neari quinta, Emma Mia Corrazza sesta e Livia Santanchè al nono posto. Nella categoria ragazze vittoria di Emma Puccetti della Virtus Lucca, le ragazze del Pietrasanta si sono ben piazzate con Ellis Angeli settima, Beatrice Mori dodicesima e buona gara e su esordi nella categoria per Luna Bacci. Passiamo alla categoria ragazzi dove la vittoria è andata al portacolori del CCC Viareggio Federico del Pistoia, gli atleti del Pietrasanta, Bernardo Babbini quattordicesimo, Tommaso Bazzichi quindicesimo e Gianluca Davini diciassettesimo. Tutti gli esordienti sono stati coraggiosi i protagonisti, per alcuni di loro era la prima gara, Alice Federigi, Eleonora Gianelli, Nada Bugdad, Tobias Denartog, Alessandro Levi, Max Elogiambo, Sara Borza, Alice Cantini, Lorenzo Politi, Alessandro Aliboni, Salvini Dallamaria, Filippo Guidi, Cristopher Bellè, Antonio Angelastri, Manuel Tomagnini, Samuele Guicciardi e Luca Virti, se li abbiamo ricordati tutti. E infine intervenuto per le premiazioni il fiduciario del CONI lucchese, il dottor Stefano Pellacani. Siamo al tennis, il circolo tennis Lucchia si conferma con le sue 24 squadre come una delle società più attive della regione toscana. Confermata anche la partecipazione al massimo campionato a squadre federale di A1 femminile, promozione raggiunta nel 2017 e campionato che aveva inizio nel mese di settembre del 2018. Verrà schierato il gruppo storico con Giulia Remondina e le tre giocatrici del bivaio, Jessica e Tatiana Pieri e Jasmine Paolini, oltre all'ingaggio conclusosi in questi giorni di Alice Matteucci di Pescara. Con questa formazione il circolo lucchese può ambire molto in alto e comunque sempre alla ricerca di uno sponsor che affianca i soci del circolo nel supportare finanziariamente questa importante attività. La pallavolo, l'ultimo acuto, ha ridato vigore alla fonte viva pallavolo massa, un successo che vale doppio perché due punti colti con Castellana tornano utili per la seconda fase, una vittoria che pesa moltissimo per il morale e le sicurezze di una squadra che stava attraversando un momento difficile. Adesso la pausa del campionato e poi dal 4 febbraio il via alla seconda fase. La palestra Gaber di Lido di Camaiore ha ospitato i campionati di ritmica 2018 con la tappa di andata della Serie D Silver dove la Gym Star di Capannori si è messa in particolare evidenza meritando due bronzi conquistati nelle categorie allieve dalle frizzanti Elisa Cipriani, Angelica Coltelli, Eschi, Giuffrida, allieve LC e dalle determinate Alissa Beltrami, Anna Genovali del Debbio, Martina Francesconi, Martina Polloni e l'area Riccomini nell'allieve LB. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del Ticinoi, vi ringrazio per l'ascolto dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.